ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di proviamo cose nuove continua la serie dedicata alla partita della chats e oggi andiamo a trovare le che tre chips chat di questo di qua queste hanno quando poi anche quella sorta di cosa particolare tipo nelle patatine adesso che mi ha guardato ne vado nel dettaglio la confezione ok ed eccomi qui con le chats che the chips di picco no preservatives non test in jars bed drop tops gluten free e vegan quindi questa è una cosa vegana in teoria confezione che si presenta sempre come le altre patate pacche di chats qua in tre non disegno quindi dovrebbe essere al gusto di cetriolo in teoria a parte che diciamo tutta busta nere qua ci disegno delle patatine con il colore tendente qui però al verde line a questa parte poi abbiamo il resto quasi ripete la frase di prima abbiamo poi gli ingredienti nella parte in alto no non c'è l'italiano chiaramente anche se hanno messo un adessivo con la lingua italiana cerco di zoom ora e mettere un poco a fuoco ci si tratta del gusto di sottaccetti e di barbabietola e aneto alcuni di sanno probabilmente di cetriolo e barbabietola immagino qua poi abbiamo i valori nutrizionali devo allontanare perché altrimenti non riesco a guardare discretamente tutto poco abbiamo la scansione del prezzo sono scadute il 26 di novembre questo di questo consumando il 13 di febbra quindi sono le scadute quando sto consumando pacco da 90 grammi scritto qui e niente non c'è altro adesso cambriamo trattura e le andiamo approvando a provare diciamo che le ciazze sono buone però alcuni hanno dato il 10 sono fattiva ok si lo dove mi ricordano molto molto le patatine delle pingos al cetriolo c'è quella famosa patatina strana se ne trovo due ne vorrei prendere due almeno questa è la prima questo è il colore molto fedele alla confezione non so dirvi ma questa patatina che dovrebbe essere una patatina colorata sa prontamente di sì di barbabietola ma anche di patatina bruciata quasi c'è un'altra di queste che vorrei prendere perché questo è l'ultimo di quale può mangiare alle altre quindi quella nota bruciata però pecca pecca abbastanza vediamo adesso con le normali sì alcune si sente il cetriolo altre no non sono molto integral quindi sono diciamo tutte di buona parte perché ne ho preso un mucchietto ora non male devo dire non male a queste chasse che tre chips di piccolo il mio voto finale è un 9 su 10 perché 9 su 10 perché praticamente cioè di loro si sente in altre no ma va bene questa cosa sono ottime mi sono buone patatine però quelle che sono diciamo che vende essere più scure che sono più che altro di barbabietola allora la barbabietola si sente va bene però sembra essere un poco bruciacchiate quindi questa cosa secondo me è negativa è probabile che nel modo in cui le hanno preparate le hanno leggermente bruciate secondo me o poco le fanno proprio bruciate leggermente e di conseguenza peccano perché non diciamo un poco di gusto queste scure alla barbabietola di conseguenze da un voto un po più basso per questo motivo quindi il voto 9 su 10 per me è più che meritato questi di quali offreste online quindi questi in qualche negozio stranino ce le hanno oppure siamo solo comune magari c'è qualche negozio città c'è qualche negozio americano vede se ce l'hanno e le provate non sono male per provarle ripeto sono accettato sono buone quindi se fosse sorrende l'avete detto chiaramente va bene se questo video è piaciuto mi lasciano mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao